Oggi continuiamo con il Tung De Kung Yi. Quindi noi nella scorsa settimana abbiamo visto solo i primi due movimenti, adesso continuiamo. Quindi primi due dobbiamo ricordare, quindi solo primi due e poi seguiamo. Ok, quindi ricordate. Seguiamo. Ecco, questo uno due abbiamo fatto. Adesso il terzo pronuncio io, a voi anche seguite. Ok, quindi quattro volta. Suoniamo. Faccio violento. Questo è terzo. Adesso passiamo al quarto. Ok, quindi io inizio. Questo devi dare un tempo di Tung Tata. Quindi Tung Tata. Non devi andare troppo veloce in mano. Quindi un po' devi dare tempo per girare tutti intorno di Giangù. Così anche vedere più bello pure. Questo è quattro. Adesso cinque. Il cinque dobbiamo sentire sempre. Tung Tung Tata. 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 Tung Tata Allora colleghiamo tutti. Ecco, lì dobbiamo imparare bene di un'altra sembraccia Allora abbiamo fatto il quinto, allora andiamo al sesto, il sesto è più semplice di tutto. Quindi questo è il sesto. Allora oggi quello che ho imparato da inizio fino al sesto così concludiamo le lezioni di oggi, ok? Quattro volte. Quattro volte. Quattro volte. E poi il sesto. Ok? Quindi io seguite tutti quello che oggi ho imparato. Allora. Allora. Ok. Fino qua. Per oggi basta così. Grazie mille per aver seguito questa lezione. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.